Il Natale è vicinissimo e non avete idea di che cosa regalare? Perché non pensate a un buon limoncello autoprodotto? Cosa dite? Ci vuole un mese? Nah, un giorno e se siete di super fretta potete farlo anche in un paio d'ore. Ciao a tutti e benvenuti nel canale del vostro amichevole del chimico di quartiere, oggi in versione chef della flotta stellare. Ci sono dei prodotti tipici che a volte rimangono localizzati e vengono consumati localmente per secoli e poi improvvisamente si diffondono a macchia d'olio. È il caso del limoncello, un liquore tipico di alcune zone della campagna che negli ultimi 30 anni si è diffuso a macchia d'olio e oggi lo trovate in tutta Italia ma anche in tutto il mondo. A proposito, lo sapete che il limone in realtà è un incrocio tra altri due agrumi? Alla fine del quiz vi svelo chi sono i due genitori. Se voi andate nel settore del limoncello in un qualsiasi supermercato e guardate la composizione e la gradazione alcolica trovate un sacco di variabilità. La gradazione alcolica varia tra il 25% e il 40% e così il grado di dolcezza, il contenuto di zuccheri. Quindi in realtà non esiste il limoncello perfetto perché ognuno di noi ha dei gusti un po' diversi. A me per esempio piacciono piuttosto carichi con l'alcol ma non troppo dolci. Quindi non possiamo dare la ricetta scientifica perfetta. È molto più interessante però ragionare su quali sono le procedure per ottenere un ottimo limoncello. E lì sì che interviene la scienza. Quindi oggi prepariamo il limoncello scientifico. Perché parlo di limoncello scientifico? Perché questa ricetta che ho messo a punto un po' di anni fa, così come tante altre ricette che io chiamo scientifiche che ho per esempio pubblicato nel mio libro sulla scienza della pasticceria e in questo sulla scienza della carne, per metterle a punto mi sono basato su articoli scientifici pubblicati in letteratura che vanno a indagare vari parametri nel caso della carne di cottura ottimale delle bistecche o la termodinamica del pan di spagna e così via. Quindi per mettere a punto la ricetta scientifica del limoncello ho fatto riferimento alla letteratura scientifica, cioè gli articoli pubblicati che studiano il limoncello. Ebbene sì, può stupire molti di voi di sapere che il limoncello è studiato anche negli articoli scientifici. Questo per esempio è un articolo che è stato appena pubblicato nel 2018. Non deve stupire che ci siano tantissimi articoli pubblicati sul limoncello, così come su altri alimenti, perché il limoncello è un liquore di interesse industriale e quindi ha molto senso, anche dal punto di vista dell'industria, mettere a punto parametri per migliorare questo prodotto, quindi temperatura, tempi di macerazione, procedimenti e così via. Ovviamente, inutile dirlo, la qualità del prodotto che otterrete dipenderà fortemente dalla qualità dei limoni che avrete. La buccia del limone, adesso la tagliamo, è composta da due parti. C'è una parte bianca, che vediamo qua sotto, che è amara, è spugnosa e non è tanto interessante, non è saporita, non ci interessa, e la parte colorata, che si chiama flavedo, che contiene gli oli essenziali. La parte interna si chiama albedo e, come dicevo, non interessa. Ci può interessare se vogliamo fare delle confetture, delle marmellate, perché contiene la pectina, ma non è questo il caso, anzi dobbiamo evitarla. Il flavedo in gergo gastronomico si chiama scorza, o in inglese zest. Iniziamo allora la preparazione. Dobbiamo prendere dei limoni che non siano stati trattati sulla buccia. Non è necessario che siano limoni biologici, ma andate a vedere l'etichetta dove dovrebbe esserci scritto limoni non trattati. Abbiamo bisogno per la ricetta di circa 40 grammi di scorze ogni 100 grammi di alcol etilico. Fate conto che da un limone medio prendiamo circa 20 grammi di scorze. Io uso un pela patate perché dobbiamo riuscire a togliere solamente la parte più esterna, la parte appunto colorata, perché la parte bianca, come dicevo, è amara e non ce ne facciamo nulla, e anzi non la vogliamo. E quindi pian piano procediamo a pelare i limoni. Vedete come con un pela patate bello affilato riesco a togliere quasi esclusivamente la scorza e quindi lascio la gran parte del bianco nel limone. Ricordatevi che non è vero, come invece molti pensano, che se un limone è venduto con le foglie allora non è stato trattato. Ci sono dei trattamenti che vengono fatti anche se i limoni o gli altri agrumi vengono venuti con le foglie. Dovete sempre leggere sull'etichetta. Prima di tagliare i limoni ricordatevi di pulirli bene con una spugnetta, specialmente se sono limoni diciamo del vostro albero del giardino, perché dovete togliere tutto lo sporco, altrimenti rischiate alla fine della preparazione del limoncello di avere un po' di goccioline nere di sporco che galleggiano. Nel caso vi devesse succedere niente paura potete toglierle con un po' di cotton fiocco. Le pesiamo per vedere quanto abbiamo fatto, 81 grammi, fidatevi, comunque sono appunto circa 20 grammi da ogni limone. Adesso dobbiamo usare nella ricetta 100 grammi di alcol per ogni 40 grammi di scorze, quindi noi ne abbiamo 80 e useremo 200 grammi di alcol etilico. Io uso dell'alcol etilico per uso alimentare di solito al 95% o al 96% che compro in un supermercato. Una piccola nota, io preferisco nelle mie ricette usare sempre i grammi e non i volumi, come invece spesso si fa quando si preparano con delle ricette tradizionali delle bevande o dei liquori, e questo per un motivo diciamo fisico. Il peso si conserva, quindi se io mescolo un chilo d'acqua, cioè un litro, con un chilo di alcol, quello che otterrò sarà un liquido pari a 2 kg. I volumi invece non hanno questa bella proprietà e se mescolo un litro d'acqua con un litro d'alcol, non ottengo due litri di liquido, in realtà ne ottengo molto meno e le cose poi si complicano ulteriormente quando gli aggiungiamo dello zucchero, oppure c'è una temperatura diversa nell'ambiente e così via. Quindi io per sicurezza preferisco sempre ragionare in termini di grammi. Allora, adesso per comodità e per velocizzare anche l'estrazione, taglio un pochettino le scorze in pezzi più piccoli. A questo punto dobbiamo aggiungere 200 g di alcol e quindi prendo la mia bilancia e lasceremo per un certo periodo in macerazione le bucce. Non è necessario arrivare proprio a perfettamente avere 200 grammi grossolanamente. Come vedete io uso un normale barattolo da salsa, lo agitiamo un pochettino, è consigliabile coprirlo e tenerlo in un ambiente non esposto alla luce, quindi io di solito utilizzo dell'alluminio e questo perché alcune delle sostanze che estraiamo, l'alcol in questo tempo contribuirà a sciogliere i cosiddetti oli essenziali che sono presenti nella buccia e li estrarà, li porterà fuori. Allora alcune di queste sostanze sono sensibili alla luce e quindi rischiano di degradarsi, quindi per evitare possibili degradazioni è meglio metterli o in un ambiente completamente al buio, oppure coprirlo in questa maniera. Si chiamano oli essenziali perché una volta concentrati se proviamo a toccarli con la mano sono oleosi, non si sciolgono in acqua e quindi c'è questo modo storico di chiamarli. In alcune ricette tradizionali si dice di aggiungere solo una parte dell'alcol durante l'estrazione e di aggiungere il resto dopo, però questo non ha senso perché si estraggono molte meno sostanze. Ma quali sono queste molecole aromatiche che danno il profumo tipico al limone? Beh, ce ne sono tre che sono fondamentali. Una è il limonene, non ci stupisce dal nome anche perché è stata probabilmente scoperta proprio nel limone. Poi c'è il betapinene e il gamma terpinene. Queste sono tre molecole che sono le principali responsabili dell'aroma che noi associamo al profumo di limone. Poi ci sono altre molecole secondarie come per esempio geraniale o l'alfapinene o il nerale e questi sono aromi secondari la cui percentuale può variare a seconda anche del modo di coltivazione, delle varietà, del clima eccetera eccetera e sono quelli che danno delle note diverse a limoni di tipo diverso. Gli oli essenziali del limone si possono deteriorare non solo con la luce come abbiamo visto prima, ma anche con gli acidi, quindi non si deve assolutamente aggiungere al limoncello, come invece viene fatto in qualche ricetta tradizionale, del succo di limone perché il succo di limone essendo acido può alterare e peggiorare notevolmente col tempo la qualità del liquore. Ma quanto tempo deve durare la macerazione? Se guardiamo le ricette tradizionali ci sono una diversità di suggerimenti, da una settimana, due settimane fino anche a 40 giorni. Ma quanto deve realmente scientificamente durare la macerazione? Beh, minimo un giorno e massimo tre giorni. Esattamente, so che molti di voi che fanno abitualmente il limoncello con delle ricette tradizionali magari saranno saltati un po' sulla sedia. Ebbene sì, un giorno è il minimo necessario per avere una buona estrazione e tre giorni sono più che sufficienti e non si dovrebbe andare oltre, altrimenti rischiamo di estrarre dalle bucce anche delle sostanze che noi non vogliamo, cere, sostanze indesiderate, la parte amara che noi non vogliamo. Come vi ho detto io sono andato a vedere le pubblicazioni scientifiche che studiano il limoncello e per esempio in questa pubblicazione fanno vedere che dopo un giorno di estrazione a temperatura ambiente praticamente tutte le molecole principali che vi dicevo prima, il limonene, il betapinene e così via, sono già tutte estratte e per estrarre anche gli aromi secondari sono sufficienti tre giorni. Dopo tre giorni non si estrae praticamente più nulla di quello che ci interessa. Ho fatto vari esperimenti. Il limoncello fatto con un giorno solo di estrazione è quello più aromatico, molto molto profumato. Se invece l'estrazione, la macerazione diciamo, arriva a tre giorni, beh questo è molto molto simile a quello commerciale, molto più intenso ma meno profumato. Io sinceramente preferisco quello da un giorno per via del profumo molto più intenso. Alcune ricette prescrivono di fare una macerazione in acqua e alcol. Questo in realtà non va bene perché si estraggono molto meno molecole aromatiche. Se mi state seguendo in un paese dove non si vende l'alcol puro, potete utilizzare il super alcolico più neutro che potete trovare, per esempio della vodka, il più alcolico possibile per riuscire a fare un limoncello decente, ma l'alcol puro è molto meglio. Questo allora lo lascerò a macerare fino a domani e continuiamo la preparazione utilizzando quello che ho iniziato a fare ieri. Questo l'ho preparato ieri, quindi dopo un giorno di macerazione togliamo l'alluminio e vedete, vedete l'alcol come si è colorato di giallo-verde? A questo punto andiamo a filtrare, eliminiamo le bucce e andremo poi a continuare la preparazione. Come vedete dopo un giorno di estrazione le bucce sono quasi quasi bianche, se le avessimo lasciate dentro tre giorni o più sarebbero state completamente bianche, segno che l'alcol ha estratto tutti gli oli essenziali e anche il colorante giallo. Dopo aver filtrato l'alcol dalle bucce dobbiamo aggiungere lo zucchero. A me non piace molto zuccherino per cui aggiungo la metà dello zucchero in peso rispetto all'alcol iniziale, quindi siccome abbiamo messo 200 grammi di alcol inizialmente aggiungerò 100 grammi di zucchero. Vi ricordo che l'aggiunta dello zucchero non varia minimamente la gradazione alcolica, lo dico perché in realtà in rete ci sono un po' di leggende su questa cosa, come se aggiungere più o meno zucchero possa variare la gradazione alcolica. In realtà siccome non dobbiamo fare una fermentazione questo non ha assolutamente nessun tipo di effetto. Vedete che l'alcol non riesce a sciogliere lo zucchero e quindi rimarrà nel fondo fino a quando non aggiungeremo l'acqua. Un'altra cosa che faccio di diverso rispetto alle ricette tradizionali è che aggiungo direttamente lo zucchero e non invece lo sciroppo di zucchero. In realtà l'aggiunta dello sciroppo di zucchero è un passo inutile. Magari potrebbe aver senso se devo preparare 20 litri di limoncello e allora preparo dello sciroppo una volta per tutte, ma in realtà in questo caso non cambia assolutamente niente, è un passo in più consumerei del gas inutilmente. A questo punto dobbiamo aggiungere dell'acqua e qui ovviamente più acqua aggiungete meno sarà la gradazione alcolica finale perché l'alcol verrà diluito. Una buona ricetta di partenza da cui potete partire per poi trovare la vostra ricetta è quella di aggiungere la stessa quantità in peso rispetto all'alcol che avete aggiunto inizialmente. Quindi qui abbiamo aggiunto 200 grammi di alcol e potremmo aggiungere 200 grammi di acqua. Se lo vogliamo un po' più diluito aggiungiamo più acqua. Io ne aggiungerò, facciamo 220 grammi. Come vedete si forma immediatamente un'emulsione perché le goccioline di oli essenziali non sono solubili in acqua e quindi escono dalla soluzione, non c'è più abbastanza alcol per tenerle in soluzione e quindi formano tutte queste micro goccioline che vanno a rendere opaca la soluzione. Mescoliamo. Potrà essere più o meno verde, più o meno arancione, più o meno giallo. Dipende ovviamente dal colore iniziale delle bucce che avete utilizzato. L'opacità è un pregio, non è un difetto. Vuol dire che avete estratto veramente tante molecole aromatiche. I limoncelli trasparenti che si ottengono per esempio facendo una macerazione solamente con acqua e alcol non riescono a estrarre così tante molecole di oli essenziali e quindi non riescono a formare un'emulsione così visibile come questa. Mescolo per sciogliere lo zucchero. Se volete ora possiamo imbottigliarlo, dobbiamo solo essere sicuri di avere sciolto bene lo zucchero. In teoria possiamo anche berlo subito, tuttavia io consiglio di aspettare magari una settimana o anche più perché mentre rimane imbottigliato le reazioni chimiche continuano ad avvenire e in particolare gli acidi che abbiamo estratto dalla scorza reagiranno con l'alcol etilico e formando delle molecole che noi chimici chiamiamo esteri e sono delle molecole molto profumate. Questo contribuirà a arrotondare e ad ammorbidire l'aroma e il sapore del limoncello nelle settimane immediatamente successive all'imbottigliamento. Basta prendere un imbuto ed ecco che lo imbottigliamo. So che alcuni di voi saranno sicuramente scettici, vi invito a provare. Io vi invito a provare quello con un giorno di macerazione e poi fatemi sapere. Qualcuno di voi mi potrebbe chiedere se la stessa procedura si può utilizzare per altri liquori, che ne so, il mirto, lo zenzerello, il nocino. Allora, ogni vegetale ha bisogno della sua ricetta. Io ho provato a utilizzare questo tipo di procedure quindi un giorno di macerazione o al massimo tre giorni per altri agrumi come le arancia amare o il cedro e viene perfettamente. Però se vogliamo fare altre cose io non ho fatto esperimenti quindi non vi so dire se per il mirto o per lo zenzero o per altri tipi di matrice vegetale che andiamo a estrarre, quei tempi e quelle modalità sono quelle giuste. Quindi fate degli esperimenti e nel caso ditemeli nei commenti. Potete effettuare un'estrazione veloce immergendo il vostro barattolo senza l'alluminio in una pentola riempita di acqua calda che avete portato a 50 gradi, misuratela con un termometro, immergete il barattolo, coprite con un coperchio e lasciate lì magari un paio d'ore fino a quando l'acqua arriverà a temperatura ambiente. Se proprio volete fare una cosa più precisa potete ogni tanto riaccendere il fornello e con un termometro controllare di non superare mai i 50 gradi. Diciamo che dopo due ore di estrazione potete poi proseguire nella procedura come vi ho fatto vedere. Ricordatevi che il limoncello va bevuto freddo, almeno secondo me, poiché contiene un sacco di alcol e un sacco di zucchero, addirittura potete tenerlo nel freezer perché l'alcol e lo zucchero impediranno al liquido di ghiacciare. Io però preferisco tenerlo nel frigorifero perché ha una temperatura superiore e quindi posso sentire molto meglio gli aromi che abbiamo fatto tanta fatica per estrarre. E ora la risposta del quiz. Il limone è un incrocio tra il cedro e l'arancio amaro. La genetica degli agrumi è molto complicata, magari ne parliamo in un altro video. Per oggi abbiamo finito quindi un arrivederci dal vostro amichevole chimico di quartiere oggi in versione chimico della flotta stellare. Ciao!